Di Piero Giunta, non potevamo aprire oggi il nostro radiogiornale con la notizia calcistica che è arrivata ieri intorno alle 18. L'arco beleno ispica ha vinto il primo turno dei playoff battendo per 5 a 4 al città di Palermo. Una partita al cardiopalmo sconsigliata per i deboli di cuore. Ieri la ispica sportiva ha gioito insieme ai ragazzi che hanno fatto l'impresa, continuando a sperare nel sogno che si chiama Serie A2. La gara è stata incerta dal primo all'ultimo secondo. L'arcobaleno ci prova subito battendo il calcio d'inizio con un tiro di Leonardo Costamagna che sorprende il portiere ospite che riesce a salvarsi. Entrambe le squadre vogliono la vittoria e non si risparmiano facendo assistere ad una bella gara fatta di fraseggi e conclusioni da entrambe le parti. A sbloccare la gara è il città di Palermo che trova il gol su uno schema di calcio d'angolo. Passano solo 30 secondi ed è Davide Di Benedetto che pareggia con un tiro in diagonale che si infila alle spalle del portiere ospite. Al diciannovesimo è Memo Ficili che appoggia in rete l'assist di Davide Di Benedetto portando così l'arcobaleno al riposo sul 2 a 1. Nella seconda metà di gara si vedono gioco, gol, nervosismo ed emozioni fino all'ultimo istante della partita. Al secondo minuto è Marcelo Mitterman a trovare il gol del 3 a 1 con Leonardo Costamagna che batte una punizione passando la palla all'allenatore giocatore che batte il portiere. In la città di Palermo rimette la gara in discussione con il gol del 3 a 2. Al decimo è Giovanni Corallo con un tiro di punta da posizione angolata a trovare la rete del 4 a 2. Dopo appena un minuto è il numero 7 ispicese Davide Di Benedetto a fare brillare il cartellone sul 5 a 2. Al quindicesimo gli arbitri assegnano un rigore agli ospiti espellendo ingiustamente Giovanni Corallo. Dal dischetto va Di Maria che realizza il 5 a 3. Dopo pochi istanti arriva anche il gol del 5 a 4 con gli ospiti che sfruttano un errore difensivo dell'arcobaleno. Negli ultimi minuti il città di Palermo insiste con il portiere di movimento ma i ragazzi ispicesi riescono a neutralizzare le azioni offensive dei rosa-nero portando a casa la vittoria e il passaggio del turno. E' fuori a fine partita con i festeggiamenti da parte dei giocatori e della dirigenza dell'arcobaleno. Ad assistere alla gara erano presenti il sindaco Enocenzo Leontini e il vicepresidente del consiglio comunale Serafino Arena che hanno festeggiato insieme alla squadra. Da lunedì i ragazzi del presidente Angelo Galifi si concentreranno sulla gara di sabato prossimo contro la polisportiva futura per continuare a fare diventare in realtà il sogno che si chiama Serie A2. A fine gara abbiamo sentito ai nostri microfoni il presidente dell'arcobaleno Angelo Galifi. Presidente Galifi, un arcobaleno che fa sognare tifosi, abbiamo assistito ad una partita al cardiopalmo. Un 5-4 contro il città di Palermo che proietta l'arcobaleno e ispica alla prossima, possiamo dire, finale in Calabria contro la futura e che lo avvicina sempre di più al sogno che si chiama Serie A2. Grazie Piero, sì sono strafelice, strafelice per questi ragazzi che hanno meritato questa vittoria, ragazzi che hanno fatto grandi sacrifici, oggi è stata dura, abbiamo accolto una bella squadra che è il Palermo, ben assestata ma noi avevamo una marcia in più e eravamo consapevoli di questa. Abbiamo vinto, abbiamo stravinto e questi ragazzi vanno tutti i miei complimenti e vi rinnovo l'appuntamento alla prossima partita con la speranza di poter festeggiare l'atto finale. Grazie, ringrazio Angelo Galifi, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.